Dai, guarda, andamia, no, no, non voglio, allora prendi la carta, quella tu, quella tu. Allora signore, se volete accomodarti all'esterno, perché partiremo con la cerimonia ufficiale dell'inaugurazione per un istante, allora facciamo uscire tutte le persone che sono all'interno e non posso sapere mai dov'è, e sei anche d'accordo che le carte sono tutte diverse, giusto? Lo hai pensato, sono tutte uguali, dì la verità, dì la verità, adesso creiamo un effetto di mentalismo oculare che può fare con lo sguardo, è difficilissimo, poi dopo due anni ci sono riuscire, guardami bene appuntamente, qualsiasi cos'è, non dire niente, ok? Guarda bene, rossa, nera, rossa, nera, nera, nera 97%, giusto? Guarda, nera di fiori, allora signori, mi invitiamo nuovamente per cortesia a uscire nel quartiere esterno, in modo che si possa dare inizio alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell'autocarazzinia moderna. Ho un setto o un otto di fiori, giusto? Ci siamo? Aspetta, aspetta. Sette, otto. Sette, otto. Otto di fiori. Quanto la sermazza è truccata, se non può pensare di tutto di più, giusto? Uguali, uguali. Uguali, certo. Non ci mancherebbe altro, tesoro mio. Sono tutte uguali le carte, tutte. Interessante, interessante. Ma, ma, come ti chiami, bellissima? Marta. Marta, guarda, tu stai chiamando in un'altra carta, c'ho due poli, più c'ho sette le pinche. Questo non è felice, vorremmo scarare, perché voi... Questa, vuoi questa, vuoi questa? Ok, guardala benissimo. Guarda, vieni in camera, vista. Ci sei, Marta? Sì. Ma sei Marta Marzotto, no? No. Metti la carta dove vuoi tu, dentro, dove vuoi tu? Dove vuoi tu? Te la ricordi bene la carta? Sì. Bene, bene, bene. Tieni il mazzo, tieni il mazzo. Signora, lei l'ha vista la carta? Se la ricorda bene, ci sto. Tutti l'abbiamo vista, l'ha vista anche lei? No. Non l'ha vista la carta? No, ma non importa. Ok, non importa. Allora, ascolti qui, guardi evidentemente. Mi dica, vuoi, 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 quadri, fiori, picche, 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 picche. Intessa. Aspetta un attimo, tu l'hai vista la carta? No. E ti piace come carta, giusto? Sarò che si fa il A, quattro, ho scritto la carta, giusto? sc 그럼 inahah. Sì c'è l'abbiamo vista, beh, cosa ecco una volta? De Ricky un B. lui quelОsella c'è l'ha vista, dimostra. Cuore di serenze, io bovol'… guai. Sì Šta! Io, signori, vi ringrazio il cuore. Grazie!